Sarà un ferragosto blindato nelle città campane, tanti gli uomini delle forze dell'ordine e nazione, 600 i carabinieri tra Napoli e provincia in strada, ma è anche il primo ferragosto con il Green Pass. Vediamo proprio le persone come hanno scelto di trascorrere questo 15 d'agosto. Siamo organizzati con i nostri amici, andiamo a Capaccio in un lido agriturismo. Ovviamente faremo attenzione a non lasciare andare via la mascherina. È a casa di alcuni amici di famiglia, provincia a Giungano. Con tanta roba da mangiare, tutte le varie famiglie che si riuniscono. Diciamo che sarà un ferragosto comunque diverso dal solito, ma cerchiamo di renderlo il più normale possibile. Andiamo domani a Positano, diciamo che è simile a quella dell'anno scorso, però diciamo col vantaggio che ci siamo potuti vaccinare, quindi siamo più tranquilli. No, noi siamo qui in vacanza, siamo venuti a trovare lui, quindi facciamo un giretto in costiera. Comunque lavoriamo qui, è giusto anche portare i soldi al nostro territorio. Abbiamo organizzato una giornata al mare, in verità gli ho organizzato poco, credo che seguirò gli amici. E sì, ci godiamo un pochino quest'estate, leggermente diversa dal solito comunque. Lo trascorrerò un po' qui in Campania, sarò giù nel Cilento. Questo sarà il primo ferragosto con il Green Pass, si sente più sicuro? Cosa ne pensa? Io ne penso positivamente, io il Green Pass ce l'ho e sicuramente una sicurezza in più.